Benvenuti a tutti i Forniteers, benvenuti e bentrovati su YouTube, oggi andiamo a vedere questa isola qui questa isola qui che abbiamo già visto 0038 1331 2154 entriamo, mettiamo privata mi raccomando che siamo in pubblica, andiamo, mettiamo privata e andiamo a fare gioca intanto ragazzi prima di entrare a vedere come fare questa mappa mi raccomando mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto continuate a seguirci, mi raccomando ok, arrivati dentro, andiamo scendiamo giù, da questa parte giriamo a destra, ci posizioniamo qua, 3 e 2 muri e andiamo a fare un emote una qualsiasi emote e si apre, qui lo vediamo l'abbiamo già visto, questo mondo, dobbiamo aspettare questi 900 secondi per poter giocare intanto qui inizia il bug dei livelli e aspettiamo a questo punto ragazzi andiamo a mettere il codice 3839 se premete più potete andare a resettare il counter qui se vi sbagliate 3 39 eccolo qua e adesso andiamo a fare interagisci perfetto e iniziamo a guadagnare gli XP così in modo tutto facile facile a questo punto andiamo da questa parte entriamo nel portale dietro di noi potreste vederlo anche in modo diverso eccoci qua e siamo qui pronti per grindare e andiamo a fare un bel po' di XP in modo davvero davvero facile 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 eccoli qua vediamo fin dove si arriva sono calati stranamente ok un bel grinding lungo eh però siamo già a livello 27 quindi è già salito un livello quindi ne abbiamo fatti molti di più adesso possiamo stare qui prendere la nostra bella arma melba e iniziare a a seccare i cinghiali e tutti gli altri animali ok non da tantissimi punti a seccare gli animali però va bene lo stesso e dava molti di più l'altro giorno comunque anche qui avete visto 100.000 XP un livello ma in realtà ne abbiamo fatti più di uno perché eravamo appena a 25 e siamo a 27 quindi abbiamo fatto tutto il 25 e tutto il 26 qui poi potete rimanere qui finché vi da punti non ne sta dando tantissimi vediamo un po' però sempre meglio che niente qui potete continuare tutto il tempo che volete a eliminare animali vedete siamo arrivati molto velocemente a 100.000 comunque sia a 101 vedete che facciamo mille punti nel giro di pochissimo tempo siamo a 102 1.2 1.3 1.4 1.5 abbiamo fatto 4.000 punti in meno di un minuto e ragazzi comunque sia quindi potete controllarlo nel timer qui anche del video e facciamo anche 5.000 5.000 in meno di un minuto ecco qua ne abbiamo fatti 6.000 circa in un minuto quindi questo vuol dire che in 10 minuti ne fate 60.000 ok questo è tutto ragazzi ci vediamo presto con altri video continuate a seguirci un saluto a tutti mi raccomando iscrivetevi e mettete un bel mi piace al nostro canale a questi video ciao a tutti